Ta bon, ta bon, sta bon che al 95esimo è arrivata la botta di culo da calcio da ferro, ta bon, almeno dici no, dopo un mese siamo tornati alla vittoria, che effettivamente così tanto male non fa, soprattutto se pensi che da questo momento in avanti inizierà la parte veramente difficile del calendario, però obiettivamente ragazzuoli, certo, da un lato c'è sicuramente la contentezza per la vittoria, più che altro i nostri ottica Champions League perché qualora la Juventus non fosse riuscita a vincere nemmeno questa partita nel giro di un mese si sarebbe ritrovata da più 18 a più 7 nel momento in cui venerdì anche con una certa agevolezza il Bologna ha battuto il Verona, sintomo che il Real Verona a tutti gli effetti si può battere per l'amor di Dio, però obiettivamente c'è anche da dire che è stata la solita roba, certo ribadisco per l'ennesima volta che non vorrei mai venire frainteso, ok, sei tornato alla vittoria, bene, in ottica Champions League, bene, ma appunto su calcio da fermo, da calcio d'angolo, con la spizzata e il gol di Daniele Rugani, letteralmente in quella che sarebbe stata in caso l'ultima azione della partita, perché dopo un minuto di esultanza di fatto l'arbitro ha fischiato e ha rifischiato di nuovo per sancire la fine della partita, quindi ok, va bene, ma di fatto ad onor del vero è una vittoria come spesso e volentieri è accaduto anche di fatto nella prima parte della stagione, dove magari certe cose tendevi a non sottolinearle tutti quanti perché in preda dà l'entusiasmo, ma di fatto quello è. E ok, va bene quello e poco altro, ad onor del vero, va bene quello e poco altro, perché anche oggi una partita probabilmente ai limiti dell'imbarazzante, si può dire senza offendere qualcuno, si può dire che ci arrivi da quattro partite dove ne pareggi due, ne perdi due, in casa contro il Frosinone e vedi quello che abbiamo visto fino al gol di Daniele Rugani è un qualcosa di abbastanza imbarazzante, sinceramente, e il tutto era partito anche abbastanza bene, che dici oh dai, dopo tre minuti Juve, no, che sembra abbastanza pimpante, subito gol con Dusan Blaovic, dici oh, ci sono magari anche i presupposti per una partita dignitosamente tranquilla, senza andare troppo ad esagerare, no, vedendo poi anche quello che era stato il precedente allo stadium contro il Frosinone, un 4-0 anche abbastanza agevole in Coppa Italia, non dico proprio una roba sulla falsa riga per l'amor di Dio, però una situazione un pochino più tranquilla, e invece Cass, invece le solite robe, la solita Juve che da quel momento in avanti tende un pochettino a fare il nulla condito con niente per l'amor di Dio, e puntualmente viene pareggiata e poi rimontata così, per stare dalla parte del sicuro, forse era anche troppo semplice, troppo bello dopo tre minuti essere lì in vantaggio perché non andarsi a complicare una situazione a tutti gli effetti favorevole, no, ci può stare. Prima che Dira, poi Brescianini, bellissimo come veramente per stare dalla parte del sicuro riusciamo sempre a riesumare i rutti, che Dira, indovinate quanti gol su azione ha fatto in Serie A, esatto, zero, ha fatto un gol in Serie A su rigore, giustamente cinque mesi e mezzo fa su azione non aveva mai segnato chi mai poteva far segnare che Dira su azione, dove tra le altre cose c'erano cinque difensori e che Dira, punto, nonostante tutto, che Dira è stato libero di andare a impattare il pallone di testa e segnare. Per rimanere coerente invece il secondo gol, tanto per cambiare, hai difeso come il porco, alto lasciando a Brescianini tutto lo spazio del mondo, puntazza e via, ma fortuna che c'è Dusan Blauvic. Paradossalmente, io continuo a non capire come, da una schiera di tifo anche particolarmente odiato, quando è letteralmente l'unico che sta trascinando a suon di gol e a suon di assist la Juventus. In questa stagione, in questa stagione, secondo capocannoniere dietro a Lautaro Martinez, che comunque sta facendo la stagione che sta facendo con l'Inter, per l'amor di Dio, fenomenale e non c'è nulla da dire. E il problema è che c'è sempre tanto da dire nei confronti di Dusan Blauvic, che però vai a vedere, che mi pare proprio da Frosinone e Juventus, quando ha trovato quel gol quasi al novantesimo, sempre bene o male, no? Sui discorsi delle tante vittorie arrivati in questo modo, però in quel momento erano necessarie come il pane, poi quando qualcosa cambia non ti puoi nemmeno troppo stupire. Da quella partita lì ha fatto una roba come nove gol in otto partite, più qualche assist abbastanza decisivo come quello a Rabiot e Juventus-Roma, eh no, però. E per stare dalla parte del sicuro sempre quello un pochettino più odiato, ma va bene così. In tutto questo mi auguro che il gol di Rugani, per stare dalla parte del sicuro, abbia sancito quante altre volte dovrà mettere i piedi in campo Alexandro. Mai, mai, per stare dalla parte del sicuro. Mi auguro, no? Che sia arrivata questa conferma con il gol che è valso, una vittoria a distanza di un mese oggi, Alexandro in campo, quando? Mai. E in tutto questo speriamo anche che non si siano particolarmente fatti male né McKennie né Rabiot, perché Rabiot ha preso una tega della Madonna da Bremer. Noi, quando le cose non vanno bene per stare dalla parte del sicuro, veramente, se casca una banana ci rimbalza nel culo, tanto che i nostri fanno male ai nostri per stare sempre anche qui dalla parte del sicuro. E anche McKennie, insomma, non ho capito che cosa gli è successo, se è uscita una spalla, se si è fatto molto male a una spalla, ma speriamo semplicemente che non sia un qualcosa di così tanto grave che lo costringa a rimanere fuori parecchio. Perché comunque anche oggi McKennie ha dato dimostrazione di essere imprescindibile per questa Juventus, ha fatto lui di fatto i due assist per Dusan Blauvic e va bene così, nel senso, va bene così che sei tornato alla vittoria. Il come nel metodo allegriano, ecco, non è che ci possiamo stupire più di tanto, ecco, ogni tanto serve anche vincere così, però un discorso è ogni tanto, un altro discorso è tra le condizioni numero uno, però quando arriva sicuramente non è che ti puoi dispiacere. Ecco, non ti puoi però allo stesso tempo neanche stupire quando non arriva, perché robe di questo genere non possono capitare sempre. È vero che in diverse circostanze nel secondo tempo avevamo avuto modo, tra le altre cose Alcaraz aveva anticipatamente tolto un gol a Daniele Rugani, che aveva impattato il pallone benissimo verso il cinquantesimo, cinquantacinquesimo, quando era solo che ha tirato una fucilata indirizzata verso l'angolino su Alcaraz che era lì steso da qualche secondo, l'ha preso pieno e va bene. E va bene così, veramente, va bene così perché serviva, certo, magari anche per morale e quant'altro sarebbe stato carino probabilmente trovare una vittoria un pochino più convincente rispetto un gol a scapuzzo al novantacinquesimo contro il Frosinone in casa, però di fatto questo sei e di certo non lo scopri nemmeno oggi, diciamocelo chiaramente, prestazione insufficiente mi sembra evidente, risultato però che era importante da portare a casa e voi non vuoi, l'hai fatto, quindi daje.